La Germania è oggi il principale partner commerciale per l'Italia. Nei primi dieci mesi del 2014 l'Italia ha esportato in Germania beni per oltre 42 miliardi di euro, quasi il 13% del totale, ed ha importato prodotti per 45,7 miliardi, il 15,4% del totale. Un ruolo chiave è quello che svolge dal 1921 la Camera di Commercio Italo-Germanica, di cui oggi a Palazzo San Giacomo è stata annunciata l'apertura di una sede anche a Napoli, per guardare alla città e dalla regione, dove già da qualche mese ha prodotto anche dei risultati, come la scelta di ben 22 imprese campane dell'agroalimentare sulle 50 italiane scelte in una selezione di fornitori per un gruppo leader della grande distribuzione tedesca. Lo scopo di questa iniziativa è quello di offrire anche al territorio campano, al territorio di Napoli, uno strumento che permette di rafforzare le relazioni tra i due paesi, Italia e Germania, che sono relazioni fondamentali, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista politico. Con oggi, con il console Caffarelli, avremo una persona direttamente in loco per poter offrire sia i servizi che tradizionalmente la Camera di Commercio offre sia alle aziende tedesche che intendono installarsi sul territorio o operare sul territorio, che anche alle aziende italiane che intendono espandere la propria area di influenza alla Germania attraverso una struttura come quella delle Camere di Commercio. Inoltre, crediamo anche di poter dare un contributo a un ruolo sociale, economico e politico portando avanti le stanze delle aziende italiane e delle aziende tedesche nei confronti delle autorità e qui posso solo ringraziare perché se questo è il modo con cui partiamo, siamo partiti col piede giusto e sicuramente il dialogo con le autorità, col Comune, con la Regione sarà molto intenso e porterà i frutti per tutte le parti coinvolte. Vantaggi per quanto riguarda gli scambi commerciali fra l'Italia e la città di Napoli in modo particolare e un paese fondamentale nell'Unione Europea quale la Germania, vantaggi per lo sviluppo e l'innovazione e la possibilità di poter insieme migliorare la concorrenza sui mercati internazionali. Peraltro devo dire che nella quinta città d'Europa, perché questi sono i dati che noi abbiamo, si apre una rappresentanza commerciale della Germania e un fatto che ci onora e che rappresenta un'occasione fondamentale per il nostro sistema industriale e per il nostro sistema produttivo. L'importanza strategica è chiara se si pensa che alla fine del 2013 si registravano 2800 imprese tedesche in Italia, con un totale di 189.000 posti di lavoro e più di 400 imprese italiane negli ultimi tre anni sono state accompagnate sul mercato tedesco dalla Camera di Commercio Italo-Germanica, che oggi conta 600 soci e gestisce ogni anno 4000 richieste per scambi fra la Germania e l'Italia. Un giorno importante che testimonia la credibilità della nostra città. La Germania fa un investimento con la Camera di Commercio Italo-Germanica. Napoli come sede non solo dell'area urbana napoletana, ma di tutto il sud, di tutta l'area soprattutto sud-occidentale. È importante perché rafforza sempre di più il ruolo internazionale di Napoli come capitale del Mediterraneo. È un modo per riconoscere anche la forza delle nostre attività produttive ed economiche che hanno bisogno di un sostegno e di entrare in un circuito internazionale sempre di più.